La Mediterranean Sea Cup, manifestazione agonistica di SAP organizzata dall'associazione sportiva direttantistica The Beach Club di Fregene, si è spostata quest'anno dalle spiagge del comune di Fiumicino a quella di Ostia. L'edizione 2019 dell'evento infatti si è svolta presso il porto turistico dove si sono ritrovati una ottantina di atleti provenienti da Lazio, Marche, Abruzzo, Puglia, Veneto e Liguria, tra di essi anche alcuni diversamente abili. Ad ulteriore prova del valore inclusivo dello sport, la Mediterranean Sea Cup era valida come ultima tappa del campionato italiano SAP e PRON della Federazione Italiana Scinautico e Wakeboard. Le gare, viste le condizioni del mare non proprio favorevolissime, si sono svolte su un percorso tracciato all'interno delle acque portuali ed hanno potuto contare sull'assistenza di guardia costiera, polizia e croce rossa italiana. Tale circostanza, come sottolineato dal coordinatore organizzativo Pierluigi Rovegno, ha consentito a curiosi ed appassionati di poter seguire da vicino la competizione con gli atleti impegnati in un circuito da ripetere più volte. I vincitori assoluti sono stati alla fine Filippo Mercuriali, tra gli uomini, e l'azzurra Laura Dal Ponte, portacolori del Beach Club in categoria femminile. Grazie. Grazie. Grazie.